Costanza Manfredini, una delle principali protagoniste di questa bella vittoria del volo e soverato contro la vicecapolista Pesaro, un soverato che vince e convince, possiamo dire così, anche sotto il piano dell'atteggiamento, dell'approccio alla gara, una partita complicata nei primi due set che invece vi ha visto dominare nel terzo. Assolutamente, io insomma sono un po' senza parole perché trovo che questa è stata la partita del carattere, del bel gioco perché comunque abbiamo anche dimostrato di saper giocare bene e abbiamo dimostrato di poter vincere e giocare con tutti, quindi questo è il campionato che io mi immaginavo, insomma un campionato difficile in cui la prima va a perdere contro una scuola di metà classifica e viceversa, quindi sarà un campionato tosto. La quarta vittoria consecutiva per voi, quindi indice del fatto che state bene anche dal punto di vista psicofisico, adesso è una squadra che migliora di partita in partita e questo è un buon viatico anche in vista comunque del girone di ritorno. Sì sicuramente, io penso che ci sia molto servito giocare comunque ogni tre giorni perché al di là della fatica, delle trasferte, comunque macinare il gioco porta anche a trovare più feeling, più complicità, quindi penso che stiamo lavorando bene e che finalmente i risultati stanno arrivando, che insomma è la cosa che conta di più. Anche per quanto riguarda le tue prestazioni personali ritengo puoi essere soddisfatta, al di là del fatto che eri il capocannoniere attuale del campionato, ma diciamo che le tue prestazioni anche oggi sono state positive, quindi anche per te dopo il difficile campionato dell'anno scorso per via degli infortuni sicuramente è un buon segnale. Io sono molto felice, ho una squadra però che gioca con me, che mi aiuta e che rende possibile comunque il fatto che io giochi tranquilla e che giochi bene, quindi per ora sta andando bene, io insomma come hai detto tu l'anno scorso ho avuto un anno abbastanza difficile, quindi per me era molto importante dare tutto quello che avevo quest'anno, ci sto provando, spero di riuscirci sempre di più. Coach Matteo Bertini, il suo Pessaro viene sconfitto qui a Soverato 3-0, si sapeva che poteva essere una partita difficile, alla fine il Soverato ha vinto due set, diciamo così, equilibrati, sostanzialmente equilibrati, nel terzo però il Soverato ha prevalso un po' in tutti i fondamentali. Ma io credo che il primo set è stato una cosa vergognosa da parte nostra, perché sul 9-7 per il Soverato abbiamo fatto sette errori punto già e questo la dice lunga sulla qualità di partita che ha giocato la mia squadra. Non abbiamo fatto niente di quello che dovevamo fare, anzi, al contrario abbiamo fatto di tutto per far prendere entusiasmo, grinta e voglia di giocare a Soverato e questo non mi piace. Abbiamo sbagliato tanto e complimenti a Soverato perché ha fatto una bella partita e questo c'è da riconoscerlo, ma oggi la mia squadra è stata vergognosa. Ecco, un Pesaro che era partito con un filotto di vittoria, ora nelle ultime tre ne perde due, indice di un campionato comunque che come si è detto sin dall'inizio è un campionato difficile dove ogni partita veramente se non giochi al massimo rischi di incappare in brutti scivoloni. Certo, soprattutto arrivando con un atteggiamento supponente come abbiamo fatto noi, queste partite vanno rispettate al massimo, soprattutto quando si gioca fuori casa in dei palazzetti così caldi contro una squadra che veniva da una serie di vittorie, soprattutto quella di Settimo Torinese dove non è facile per nessuno andare a giocare. Non ho nient'altro da aggiungere, solo fare i complimenti a Soverato e fargli un grosso in bocca al lupo perché questo posto e questo palazzetto merita tanto. Sono due anni che vengo qui, sono due anni che non vinco nemmeno un set, però ho trovato sempre un clima fantastico e faccio i complimenti a tutti dai tifosi, alla società, allo staff tecnico che sono amici miei, da tantissime ragazze che ho conosciuto e ho avuto, che sono bravissime, oggi hanno meritato il 3-0 senza, sì, indubbiamente l'hanno meritato e non possiamo farci niente. Coach Stefano Saia, Soverato alla quarta vittoria consecutiva, soprattutto battendo la vice capolista del campionato, una squadra forte come Pesaro, una squadra che oggi vince e convince ancora di più e quindi il tecnico si può ritenere soddisfatto? Sono assolutamente soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno interpretato la partita con un carattere veramente notevole, siamo scesi in campo fin dal primo punto, giocando alla pari contro la seconda forza del campionato in questo momento. È un periodo, è un percorso, stiamo crescendo di giorno in giorno, di allenamento in allenamento, ma questo è stato il punto in cui le ragazze hanno dimostrato veramente tutto il carattere di cui sono capaci in partita, per cui questa è una soddisfazione doppia. La prima per i tre punti che sono importantissimi in chiave classifica e la seconda, non meno importante, perché abbiamo dimostrato di avere tanto carattere da poter giocare in campo, insieme ad un alto tasso tecnico perché oggi abbiamo fatto vedere anche delle belle cose dal punto di vista tecnico. Era importante questa vittoria per la classifica, come diceva lei, ma era importante anche confermarsi dopo la bellissima vittoria di Settimo Torinese su un campo che sappiamo essere ostico. Il Soverato l'ha fatto al cospetto di una squadra forte, quindi è indice del fatto che anche sotto il profilo mentale questa squadra sta crescendo. Sì, come dicevo, è un percorso. Stiamo trovando le nostre sicurezze. Direi che in questo momento abbiamo trovato una situazione in cui riusciamo a partire dalle nostre certezze per poi cominciare a costruire il nostro gioco, che ripeto, è fatto di carattere, ma è fatto anche di tanta tecnica e di tanta qualità che le ragazze hanno. E quindi questo è quanto di meglio si possa sperare da parte di un allenatore e della società.